Benvenuti allo stand Rega di Espo Ticino. Rega è una fondazione privata di diritto pubblico che si occupa di soccorrere e di portare soccorso alla popolazione in Svizzera e all'estero. Con le nostre 13 basi di elicotteri situate strategicamente su tutto il territorio svizzero e con la nostra base di aerei ambulanza alla centrale Rega a Zurigo all'aeroporto di Clotem offriamo il massimo della tecnologia ai nostri sostenitori che pagano, che offrono 30 franchi all'anno oppure 70 franchi per le famiglie. Siamo in grado con questo di offrire alla popolazione una tecnologia d'avanguardia sia medica, sia per quanto riguarda gli aerei e gli elicotteri e anche per quanto riguarda la formazione del personale.